Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove in direzione Firenze si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al km 56 tra Lavoria e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Sempre verso Firenze rallentamenti per traffico intenso tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest Ponsacco. Spostandoci in A1 per lavori di ripristino della pavimentazione, domani notte in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Firenze e Scandicci in entrata in direzione Roma. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze in via Lamedola fino al 15 settembre resterà chiuso il controviale tra viaggio 8 e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!